Deliberati dall'amministrazione di Capaccio Pestum, guidata dal sindaco Franco Alfieri, dei lavori di ripristino e messa in sicurezza dei percorsi tattili per non vedenti che si sviluppano lungo via Magna Grecia nell'area archeologica di Pestum, tali percorsi per non vedenti e ipovedenti, in seguito a dei sopralluoghi per verificare la fattibilità di effettuare questi lavori, sono risultati quasi totalmente dissestati e con grosse sconnessioni e quindi da considerare un rischio per l'incolumità pubblica e privata. L'amministrazione Capacesi ha quindi deciso di intervenire con la messa in sicurezza di queste aree, vista la necessità. I lavori saranno finanziati con fondi di bilancio comunale e l'importo stanziato è pari a 57.500 euro, di cui 47.500 circa, destinati ai lavori e 10.000 stanziati come somme a disposizione della stazione appaltante. Continua così il lavoro del comune di Capaccio Pestum nel valorizzare e migliorare tutti i servizi disponibili nell'area archeologica di Pestum, la più grande attrattiva del Cilento.